Una città senza gli standard minimi per assicurare servizi diversamente abili. La questione ritorna in Consiglio Comunale. Questa sera l'esponente del Movimento 5 Stelle, Virginia Farruggia, interrogerà l'amministrazione. Accessi al mare inesistenti, controlli che mancano per i tanti scivoli predisposti ma ostruiti dalle auto in sosta selvaggia e bus mai messi a disposizione per consentire di raggiungere le spiagge adeguate ai disabili. Sono tutti aspetti che per il consigliere confermano la mancanza di attenzione verso la disabilità. Qualcuno potrebbe dire che questa è una città invivibile per tutti quanti, sicuramente, ma una comunità deve preoccuparsi e occuparsi prima di tutto di chi non ha le possibilità che invece potremmo avere noi, quindi dei più sfortunati, degli ultimi e di chi ha difficoltà veramente a essere autonomo se non ha quelle strutture e quegli strumenti per poterlo essere. Sono persone, ricordiamoci sempre, che gravano sulle famiglie, che spesso non hanno proprio gli strumenti per poter dare aiuto a queste persone e di conseguenza ci troviamo davanti a persone che non si possono spostare autonomamente perché non hanno le fermate autobus adeguate. Eppure cosa si è fatto per questo? Già tantissime cose, anche io ho fatto interrogazioni, emozioni sul tema, ho fatto un servizio, ma nulla si è mosso. La farrugia ritorna anche sulla mancata attivazione dei piani assistenziali individuali che garantirebbero dei fondi per le esigenze di diversamente abili e li aiuterebbero a vivere con maggiore dignità. Da anni discutiamo e parliamo dei piani individuali assistenziali che oltretutto permetterebbero al Comune di ricevere dei fondi dalla Regione proprio per i singoli disabili, quindi per poter dare una mano alle famiglie e agli stessi disabili. Di nuovo siamo in piena estate e ancora non si sente parlare di alcun tipo di struttura legata ai lidi e quindi alla capacità di poter far svagare anche queste persone, perché ricordiamoci che il dovere di un'amministrazione, di un Comune non può solo essere quello di garantire loro le terapie o il trasporto per le terapie, perché queste persone sono persone come noi, così come a noi piace andare al cinema, andare in palestra, andare al mare, anche a queste persone va garantito tutto questo. Un emblema forse della invivibilità per un disabile della città è proprio Palazzo di Città, dove il settore dei servizi sociali si trova in un edificio non raggiungibile dalle carrozzelle, dove l'ufficio anagrafe non è raggiungibile se non attraverso una scala e dove l'ascensore per i disabili è perennemente furioso. Assolutamente sì, anche di questo si parla da tantissimo tempo, proprio adesso con l'inaugurazione del nuovo viale mediterraneo, anziché immediatamente focalizzare il problema e trovare subito una soluzione, visto che adesso finalmente abbiamo un passaggio assolutamente pedonale, quindi in piena sicurezza, se ti ricordi bene, l'assessore ai lavori pubblici ha parlato di economia, di locali e di movida, invece secondo me dovrebbe essere finalmente il momento di restituire i locali che si affacciano sul viale mediterraneo a questi uffici, cosicché i disabili, gli anziani, anche le mamme con passeggini possono assolutamente arrivare con facilità. Al sindaco e alla giunta sarà chiesto quali interventi sono in programma per superare queste criticità. Ormai da tempo anche l'associazione a tutela dei diversamente abili premono affinché si assicurino i nuovi servizi, ma secondo il consigliere Grillino il vero problema è sociale e soprattutto culturale. Denunciamo che l'amministrazione non ha abbastanza sensibilità, che l'amministrazione non si è occupata di tutto questo, ma è anche la comunità che non se ne preoccupa, perché comunque ancora oggi io mi sento lamentere da parte di questi disabili in carrozzina che non sono liberi di muoversi sulle banchine in sicurezza, perché puntualmente davanti agli scivoli ci sono posteggiate le macchine e purtroppo non c'è alcun tipo di controllo sul territorio, non vengono elevate multe e sanzioni e c'è un'anarchia totale, ma non è più possibile oggi che non ci sia ancora la cultura verso l'altro e di conseguenza siamo davanti a una sosta selvaggia, un'inciviltà totale.